Confindustria A fine anno la progressione si fermerà al più 0,7% allineandosi alla crescita acquisita stimata dall'Istat, ma l'anno prossimo farà ancora peggio a più 0,5%. Gli industriali quindi tornano all'attacco denunciando il tempo sprecato dal paese che oggi soffre di una debolezza superiore all'atteso, il rischio avverte Confindustria e che si debba ricorrere il prossimo anno ad una manovra da 16,6 miliardi di euro. A commentare i dati di Confindustria, a margine della presentazione presso la sede degli industriali, è il presidente del centro studi FIAIP Mario Condode Satriano, che sostiene come il rallentamento dell'economia, fotografato oggi da Confindustria, evidenzia una limatura ulteriore alle stime sulla crescita per quest'anno e il prossimo, nonostante il ministro Padoan abbia fatto invece intendere che le previsioni per il ministero dell'economia saranno migliori per il futuro. Siamo inchiodati ad una crescita che stenta a decollare, l'Italia è ferma in quanto Palazzo Chigi, a nostro giudizio, avrebbe dovuto ripartire dal mercato immobiliare e agevolare il settore con misure strutturali per il real estate, così come è stato già fatto in alcuni stati dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. Nonostante l'ottimismo a due cifre espresso in questi giorni per le compravendite dall'osservatorio del mercato immobiliare, è difficile, aggiunge Mario Condode Satriano, pensare a una ripresa robusta dei mercati. La risalita dell'economia italiana si è arrestata nei mesi primaverili e i soli interventi, favoriti da incentivi fiscali nell'anno in corso per le ristrutturazioni abitative e l'efficientamento energetico, non possono essere i soli previsti nella prossima legge di bilancio. Nuovo rialzo importante del mercato immobiliare italiano nel secondo trimestre di quest'anno. Rispetto allo stesso periodo del 2015, le compravendite sono balzate del 21,8%, migliorando il già consistente più 17,3% del primo trimestre. In particolare il mercato della casa ha visto un incremento del 22,9%, il produttivo del 28,7%, il terziario del 14,7% e il commerciale del 12,9%. Molto positivo l'andamento del mercato residenziale nelle grandi città, soprattutto a Bologna, Milano e Napoli. A segnalarlo è la nota trimestrale dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Più in dettaglio, il più 22,9% registrato dalle compravendite del settore residenziale sta riportando il mercato ai livelli di compravendita antecedenti la crisi del 2012. La ripresa nel comparto abitativo è più accentuata a nord, che rappresenta oltre la metà del mercato complessivo, seguita dal sud e dal centro. Anche le pertinenze mostrano una crescita a doppia cifra del più 23,2%. Nel settore residenziale in Italia, il 2016 si dovrebbe chiudere con un incremento delle compravendite del 14,6% rispetto all'anno precedente, mentre un aumento intorno all'8% è atteso nel 2017. E' quanto afferma l'Istituto di Studi e Ricerca Scenari Immobiliari nel suo Outlook presentato a Santa Margherita Ligure. La ritrovata fiducia nel settore è sostenuta dalla riduzione dell'imposizione fiscale, dall'aumento dell'erogazione dei mutui e dalla maggiore accessibilità in seguito al calo dei prezzi degli ultimi anni. Spiega il rapporto. Tuttavia la ripresa è limitata alle grandi città e ha un effetto modesto sulle quotazioni che sono in una fase di stabilità. I prezzi infatti restano al palo con una 2016 ancora in lieve diminuzione, un 2017 che non mostrerà alcuna significativa inversione di tendenza. La Chiesa non deve pagare la vecchia ICI, lo ha confermato una sentenza del Tribunale europeo che ha respinto il ricorso presentato dalla Scuola Montessori di Roma contro la decisione della Commissione europea che riconosceva l'impossibilità da parte dell'Italia di recuperare le tasse mai fatte pagare sugli immobili di proprietà del Vaticano tra il 2008 e il 2012. Secondo i giudici di Lussemburgo infatti non è possibile contestare alla Commissione di essere in corso in un errore di valutazione per aver dichiarato che le autorità italiane non disponevano di alcun mezzo che consentisse loro di procedere al recupero anche solo parziale dell'aiuto considerato illegittimo. Il caso risale al 2006 quando Bruxelles aveva preso di mira la vecchia ICI ed è stato poi chiuso nel 2012 quando l'allora governo Monti la sostituì con il nuovo regime dell'Imu e Bruxelles di fatto assolse l'Italia dal recupero delle tasse mai pagate dalla Chiesa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.